Presidente Sebastiani, il Pescara a Sulmona si crea entusiasmo, insomma un bel colpo d'occhio allo stadio, tanti piccoli calciatori, tanti bambini che hanno applaudito i loro idoli. Assolutamente sì, complimenti al Sulmona, alla dirigenza del Sulmona perché hanno rimesso in piedi una struttura importante, uno stadio bello nel centro e quindi Pescara è venuto volentieri e tornerà qua secondo me in estate a fare una delle prime amichevoli del ritiro. Al di là delle indicazioni che sono venute fuori dal test, Cancellotti nulla di grave, l'infortuna? Credo e spero di no, credo che si sia più impaurito per la botta che ha preso, però il medico, la dottoressa diceva che era più che altro la botta, speriamo che sia solo quella. A proposito di Cancellotti, Brosco e More, i rinnovi sono scattati per le clausole che ce l'hanno nel contratto che avete firmato, Crescenzi e Cancellotti? Vedremo, vedremo più avanti come ho sempre detto perché adesso bisogna guardare il campionato e pensare a fare bene da qui alla fine. Raffia in versione super che c'entra poco con la categoria, è vero che sono già arrivate richieste da società di categoria superiore? Raffia è un grande giocatore, lo sapevamo, ma deve pensare al Pescara e deve cercare di fare il meglio possibile per portare il Pescara dove merita di stare. Poi a giugno si vedrà, però adesso deve pensare al Pescara e non deve farsi distrarre da nessuna voce perché sicuramente è un giocatore, ma come ce ne sono altri in questa rosa, che meritano qualcosa in più sicuramente.